instructional facciamo il controllo dei rossi topiciliari noi facciamo i controlli dei rossi domiciliari dubbiamo qui controlliamo le macchine nel centro Sì, ma noi stiamo facendo fome con le poline, no? Sì, è il mio lavoro. Insomma, noi stiamo facendo un controllo. Qui non si possono, dobbiamo cancellare. Non prendere la macchina, infatti. Non prendere la macchina, infatti. Se noi facciamo più avanti, dopo le macchine. No, ma noi le facciamo più. Non le facciamo. No, non le facciamo. No, non le facciamo. No, non le facciamo. Nel casino? Nel casino? È vero che il alla sottotitolo. Erano, non è vero che il fatto… No, non c'è vero che il tempo sia tutto atto. Ach, dov'è? Chia, v'è? C'è vero che? Non c'è vero che oggi, qu'è qui? Qu'è? No, non c'è vero che? Non c'è vero che? Hè? Non c'è vero che? Grazie.